Attualmente sono amministratore delegato di Pool Holding, una società fiorentina, è una società che opera nel mondo retail attraverso rapporti di franchisie e di master franchisie. Però spiegala bene perché è un modello di business molto particolare. Sì, ci risulterebbe essere forse l'unica società italiana in questo momento che opera in maniera strutturata portando brand italiani all'estero e esteri in Italia su tutto il territorio europeo. Noi abbiamo sotto la nostra holding 14 società europee, 14 società operative quindi con SRL a tutti gli effetti, con le quali operiamo nel mondo del retail e collaboriamo con diversi brand nella storia della società che a parte 40 anni fa poi si sviluppa in particolar modo nell'Europa 20 anni fa. Noi abbiamo operatività di retail praticamente in tutte le country europee. È un servizio chiave in mano, se un'insegna italiana vuole sviluppare in Germania tu gli fai un full service il piano di sviluppo e viceversa per un'insegna straniera che voglia sviluppare in Italia purché sia di interesse naturalmente per la tua attività. E quanti negozi sviluppi in Europa? Abbiamo attualmente 57 negozi di cui una quindicina in Italia, il resto nel resto d'Europa. Quanti addetti e cifra d'affari? Complessivamente siamo intorno ai 45 milioni con 280 dipendenti. Quale percepisci essere la principale area di sfida? Sicuramente l'area di sfida maggiore è operare in maniera di sviluppo in un mercato maturo. Il mercato italiano è molto maturo, il mercato europeo lo è altrettanto. Ti preoccupa di più la maturità o l'incertezza? Mi preoccupa molto la maturità perché la difficoltà di portare brand all'estero è la capacità di inserirsi in mercati molto strutturati, molto maturi dal punto di vista di insegne e dare la possibilità a brand italiani di operare all'estero con una probabilità di successo. Oggi è la cosa più difficile. Che cosa rispondi quando non sei convinto di un progetto? Magari qualcuno ti avvicina e dice guarda sei bravo, vorrei affidarti il mio insegno ma tu percepisci che secondo te non c'è su quelle piazze l'opportunità e per questi motivi, guarda ho studiato il tuo modello ma secondo me lì c'è troppo affollamento per esempio? Non siamo per fare sviluppo a tutti i costi, anzi sono scelte che prendiamo insieme agli imprenditori, insieme al brand, facciamo delle verifiche sulle piazze europee dove il brand ritiene di poter avere migliore brand awareness a livello europeo e dopodiché condividiamo possibili nicchie di sviluppo. La prudenza chiaramente quando vai fuori dall'Italia è ulteriormente maggiore. Non è mai troppa. Non è mai troppa ma all'estero lo è ancora di più e quindi cerchiamo di fare dei primi passi molto contenuti, di verifica e poi piano piano mettere atto a diverse altre possibilità. Lavorare con soci o no? Assolutamente sì. Spiegala bene perché è uno dei temi che è emerso anche dall'osservatorio che abbiamo presentato. La forma imprenditoriale a socio unico credo faccia un po' parte della prima fase, riprendendo la questione del ricambio generazionale, fa parte della prima fase della storia imprenditoriale italiana, dagli anni 50 in poi, grandi imprenditori singoli, one man show e quindi che hanno avuto idee, che hanno avuto la possibilità di sviluppare le loro idee in un'Italia che stava crescendo a dismisura. Oggigiorno credo che chi vuol fare impresa abbia bisogno di confronti, abbia bisogno di confrontare le proprie idee con quelle di tanti altri innanzitutto, ma con quelli dei soci che desiderano andare in una stessa direzione. Io credo che le compagini sociali oggigiorno, senza andare a essere troppo estese, ma siano un punto di forza quando sono superiori al socio unico. Io di questo ne sono convinto.